Cominciano ad arrivare i primi riscontri dal confronto nato fra il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, e i vertici dell'ANAS in merito alla manutenzione dell'autostrada Palermo-Catania. Sono contento che l'ingegnere Isi, addetto Schifani, evidenzi nella sua nota la piena consapevolezza della necessità di imprimere una significativa accelerazione all'attività di ammodernamento e messa in sicurezza dell'A19 ed un nuovo modus operandi volto a contemperare il più celere sviluppo dei lavori. L'amministratore delegato Isi ha comunicato a Schifani l'avvio di un piano complessivo di ammodernamento dell'autostrada, con investimenti per oltre un miliardo di euro per la riqualificazione e messa in sicurezza. Nel nuovo accordo quadro del valore di 250 milioni di euro, la cui aggiudicazione è prevista entro giugno, ci sarà un unico operatore che potrà eseguire interventi maggiormente estesi e tra loro complementari, garantendo omogeneità di realizzazione in tratte continue di maggio sviluppo, che al termine degli investimenti potranno riprendere la piena operatività. Per quanto riguarda l'accelerazione dei lavori in corso, ANAS ha avviato un'attività coordinata di monitoraggio e sensibilizzazione delle imprese esecutrici al rispetto rigoroso dei termini di ultimazione degli interventi, richiamando gli appaltatori al rispetto delle scadenze dei lavori programmati. ANAS si impegna altresì anche ad avviare una implementazione di una pagina web dedicata sul proprio portale istituzionale, sulla quale per ogni singolo cantiere verranno rese disponibili le informazioni sull'intero programma di ammodernamento, con immagini e video che diano evidenza delle fasi e delle lavorazioni più significative e con avvisi all'utenza delle limitazioni alle circolazioni.